Sono tra quelli a cui piace osservare dal finestrino di un aereo. Anche se vedo solo il cielo o il buio in piena notte, mi capita di fantasticare e immaginare la vita che c'è laggiù a terra. Volo spesso in India o verso l'India e spesso atterro a Trivandrum durante la stagione dei mossoni. Mi piace allora osservare come cambia il cielo dall'oceano indiano all'avvicinarsi delle coste del Kerala, quando, improvvisamente, appaiono i grandi nuvoloni del mossone da attraversare e sono sempre sorpreso dalla quantità di palme da cocco e dai colori delle piccole case. Diario indiano agosto 2019 Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori Grazie a tutti.